Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Sniper Elite 2 Bene, poi ci vediamo pure dove abbiamo fatto la figura di merda l'altra volta Vediamo, voglio provare a farlo per una volta Con la pistolina Vediamo un po' Vediamo se ci riusciamo Bello, ti è piaciuto Ma cos'è il sniper? Ma che cazzo dice questo? Sniper Perfetto, adoro Che bella cosa Sempre col portesto e punti sono comunque validi Sono contento Bene, a meno abbiamo fatto poco rumore Diciamo che se c'era qualcuno di fuori non ho sentito Ovviamente questi hanno sentito perché era lì davanti E glielo ha ucciso e quindi sì Però da qui a dire sniper che l'ho sparato con una pistola silenziata Lo sniper non è per niente silenzioso perciò Vabbè Vediamo che sono testi già fatti Vediamo esattamente Ho capito dove andare Però non mi ricordo se scusate Lo so sono incognonatico Ma mi ha fatto tanta pazienza Insomma ce l'ho io Volevo vedere se potevo prendere altre munizioni Ma no Carichiamo Di qua Allora molti li avevo segnati Però non so se me li ha tenuti a conto Non vedo niente Quindi penso No, accidenti a lui Ok No con questo non penso Vediamo un po' Non mi ha visto eh Però insomma far figure di merda non ho voglia E quindi andiamo con cautela Massimo appena lo vedo mi butto giù Di picchiata e provo a prenderlo di soppiatto Vediamo un po' Silenzio Punta di piedi Caricare Carichiamo perché è meglio Non si sa mai Ok Vediamo un po' così Se possiamo prenderlo Non lo vedo ragazzi Non lo vedo quindi niente Allora cerchiamo di stare cauti Purtroppo non sono riuscito a segnarlo Vabbè che tensione però Cavoli Ok Faccio così Così almeno Lo devo riprendere Ok Ok Perfetto Andata Con la pistolina silenziata Almeno siamo un po' più tranquilli Qui si va ancora sopra Adesso Adesso lo prendo eh Silenzio Cazzo è andato Cavacca Ok Silenzio Sono letale Ma Oh cazzo Ho preso malo Ok Andata Altri Qualcun altro qua Adesso con calma Guarda Noi ragazzi intanto Non c'è fretta Ci sono altre stanze Ci sono altri posti Dicevo Insomma non c'è un caso Devo andare forza di qua Mamma mia che figuraccia Eh vabbè è andata così Non abbiamo ammazzato qualcuno qui Ho sbagliato vai Questo intanto prendiamo Ogli ho preso il suo pistolone Cioè è andata così È più uscita proprio male Eh no la colli Thompson Ma coi che palle Copertura Spazio Allora se io Facessi una cosa così Un attimo eh E poi la butto giù Ok Adesso posso Frugarlo No non posso frugarlo Vabbè è andata così Che ci volete fare Ok Andata Bombe Prese Aspetta 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 Un attico Ok Andata Non mi ha visto eh Ok Perfetto Posto Tutto facile Poi almeno abbiamo fatto Silenziosi Letali E siamo tutti a posto Intanto prendiamo un po' di munizione Munizioni qua Del suo fucilo Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare Oh che bella cosa che ho visto Adesso lo Aspetta Un attico Va Munizioni Ok Abbiamo preso un bel po' Anche del questo Sì 35-25 Non è malo eh Vabbè Posso anche provare ad andare Tanto non c'è nient'altro Bottiglie non ne vedo E questo è il nostro bel nuovo fucilo Vediamo cosa ci dice Raccoglio Il Mosin Nagant 1891-31 Bellissimo E non si sanno come costruire fucili di precisione Già Perfetto Obbettivo completato Va bene Dai Adesso quindi presumo che devo andare qui No Forse no Allora Fatemi vedere Perché devo anche capire le cose Non le capisco come faccio a Fare un cazzo Perché c'è la fine sta chiusa E quindi Mi rischio di spararmi sui piedi Va bene Dai proviamo a scendere Salire non penso Qui non si può andare Tutto chiuso E quindi penso proprio che debba scendere Allora Pistolina Può essere utile Oh ma è tutto aperto qui Cucina Qui si può Acquisisci Perfettico Adesso Calma Con cautela Vediamo se riusciamo a segnare qualcuno Guarda di qua Non penso che ci sia nessuno Mi sono andato di posto Però da mettere un bel Un bel coso qui No non c'è niente Scusatemi Mi sono fatto prendere a panico Allora Vediamo quanta gente posso segnare Col binocolo Ok Uno Qua 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 Cosa del fucil Del missile Nient'altro Oh salve Ok Io me la prenderei Un attimo Quello cos'è Scusate Non riesco a capire Ok Era solo un lampione Allora Vediamo un po' Vai così Che figata ragazzi Ciluro fotonico Eccolo là Gli ho messo in testa Un'idea nuova Insomma Così Allora adesso Facciamo Facciamola bene Infatti loro non ci hanno visto Bene o male Per il momento Adesso poi Ci vedono Ci fanno il culo a tutti Però Un po' più in alto Grazie Alta pochino Alta pochino Alta pochino Oh Quasi Guardate lì come sono Tutti in fervore E allora Una cosa alla volta Facciamo questo Poi Facciamo questo Perfettico Data Altri Cazzo L'ho mancato la grande Eh ma Ehm ma Vaffanculo però Ok Piano Calma Non ci hanno visto Snipera 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 Sniperino Ok Perfetto Perfetto Questa è andata Grande così Mi sei piaccionato E adesso Mettiamo un attico Ecco adesso Questo qui dove si mette Ma dai Ma dai Quanto cazzo Giri Ma va Fa culo Va Ok Poi Altri Ok Data Perfettico Direi che li ho fatti Fuori tutti Ma ovviamente Ce ne sono altri Ok Ce n'è anche un altro Di qua Ok Un altro di là Meno male che c'è la killcam Così almeno vedo qualcosa E ce n'è un altro qua Ok Data Perfettico Ma ne vedo altri Li avevo visti Li avevo visti E sono altri Strano Ma dove li hai visti Sono cecato Eh vabbè Dopo Non ci potiamo fare niente Siamo dei giardinieri Non ci potiamo Allora vediamo un pochino E' andato abbastanza bene Abbiamo fatti fuori parecchi eh Poi adesso Viene Viene uno E mi massacra con niente Allora vediamo un po' Mi sembra Che non ci sia nessun altro Ciò che sono cauto Però ragazzi Morire un attimo Mi tocca rifare tutto da capo E allora non c'ho voglia Eh Ok Andiamo un po' Andiamo un altro po' avanti Prendiamoli tutti con molta cautela Condizioni a destra e a manica Ok È stato bello Segnarli tutti Dai piano piano Con molta calma Abbiamo presi tutti quanti Sono tutti morti Dai è stato bello Ok Interessanto Avete visto? Ahia Dove sei? Eccoti qua Scusate Aspetta Ok Uff Allora Adesso ci penso a me Tu sei là E t'ho sognato T'ho sognato T'ho segnato Ok Vai qua Vediamo Non mi vedi eh Non mi vedi Tac Bellissimo Ma che colpo alla gamma Oh Mi dispiace tanto E questo è andato Ok Vediamo se ce ne sono altri Adesso camminiamo normalmente Così vediamo subito eh Quanto se ci sono Vi preoccupate che Vengono immediatamente Non aspetta neanche un secondo Ok Sembra che per il momento Non ci sia Devo andare Al ponte Se non sbaglio Ce l'ho capito bene Dove Esattamente devo andare Qua di sotto Per andare qua di sotto Penso che si passi da qua Non so che dico eh Chiedo Cioè Che cazzo dico Non si va Multa storia Allora adesso Capire come fare Deve essere facile Perché tanto Le strade non ce ne sono tante E andiamo Oh Cosa Cosa Cogliere mi interessa Beh l'abbiamo fatta pulita Alla fine Dai Pistola dove potevamo E Cucilo di precisione Dove 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 ce n'era bisogno Canucchialo Intanto Saliamo Ah questa Era per fare le cose Un pochino più Alla stealth No però Diciamo Alla Alla cecchino Alla cecchino bill Allora Vediamo un po' Cosa ci può essere qua Ah Interessante Quindi Quindi niente Io secondo me Devo andare qua Così a naso Eh però Ok 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 È proprio un italiano Fantastico Benissimo Con molta calma Cautela Si scende ancora No si va di qua Eh Si va di qua Si va di qua Ok Non mi faceva andare Scusate Non so che sono il coglionito Però Fino a un certo punto Ok E di qua Sto premendo ma Non va Ok E adesso Adesso devo tornare indietro Stavo guardando Probabilmente no Se fosse Ecco qui Bravo Che fatica Al momento si cagava in mano Eh Vediamo se c'è qualcosa Qui magari Dai Perché non ci sia qualcosa qui Oh C'è davvero qualcosa qui Ma dai Mi fa piacere Qualcosa che pagano L'esplorazione paga anche sto gioco Quello ci credo Cidenti accidentasso E qui sono anche a fiamaria Ok Allora Ok Andata Stanto questa è una pistola In teoria silenziata In teoria eh E quindi Comunque io penso Ricordo di aver giocato L'anno scorso Con un video sul canalo Che sto pezzo L'avevo fatto tante volte Perché Mi ha battito in culo eh Hm Non vedo l'ora di rifarlo Altre mille volte Eh shit Allora Vediamo un po' Munissioni Grazie Perfetto Due Non me ne ha tratti troppe È che non posso più prendere Che cattiva È rinalato Sto coso Più di munizioni Non mi ha dato nessuna volta È proprio cattivo Questo gioco Cattivo cattivo Ok Che mi ha fatto prendere un colpo Mi ha fatto prendere un colpo Scusate Ho svegliato Eh no Se non lo prendi perfettamente Ecco Ok Ritorniamo con questo Ah che è meglio Allora Prequisisci Eh Sarà un bel dito in culo Fare questo livello Perché è tutto aperto Eh Spesso non trovo la gente E insomma Sì E così Ma non ci provare proprio Tac Eccoci qua È un brutto posto Vero? Penso proprio che lo farò altre mille volte Sto coso Sto livello Io ci provo a farlo bene Poi dopo vediamo Insomma Sì Allora Dovrebbe essere Da queste parti Credo almeno Vediamo un po' Eh perché sono tanti Sono tanti E non riesco a vederli Certo che c'è Per poterli vedere Un attimo solo Ok Cazzo vuole quello? Gli spacco la faccia io Ma com'è morto questo? L'ha fatto Voleva fare la cosa lì Quella che fa sotto l'asta Vero? La posizione è quella Insomma sì Cosa è che vuole? Ok Sembra E sembra Che non è che mi abbiano visto Proprio tutti eh Forse è sentita Ma vista non credo Ok Qua sono messo bene Sarebbe tanto bello Vederli ma Non ne ho la minima idea Di dove siano Vediamo un po' Sento ma qui Rimuova tutto Quindi fatica L'audio non è direzionale Quindi insomma Dicevo Che Oh aspetta 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 Qualcuno qua Un po' Eccolo Eccolo Silenzio Vediamo se ci riusciamo Eh no Ce l'ho fatta Vabbè stato bello eh Vediamo Questa è silenziata In teoria Però Porca vacca Mancato Alla cazzo Di mancazzo Mica miseria È incredibile Eeeh Non aspetta Aspetta un attimo Porca vacca Ok Andata Sprechiamo Non ho fatto Proprio stealth Però Almeno Non muovirci La miseria Nembo kid Ok Sembra che Per il momento Non ce ne siano altri Prende tutto Quello che posso Prendere Vediamo un po' Come si infila Sono tutti Tanto carini No no Aspetta Un attimo Io già faccio fatica A prendere Le cose Che cazzo Era una pistola Quella C'è scritto Non c'è scritto Accoglievi più 40 E tiri La pistola Ma no È proprio Un'altra cosa No no A posto A posto Scusate Allora Andiamo avanti Con calma Facciamo tutto Adesso Abbiamo dato un sacco Però sicuramente Ce ne saranno Anche altrettanto Facciamo un po' Perfettico Sono abbastanza sicuro Che siano da qualche parte Vabbè Quindi Che so Dopo a caso Cazzarola Cazzarola Va dappertutto Ok Questo presumo Sia venuto da lì E dopo è andato fuori Vediamo un po' Ok Bene Proprio Stealth Stelta Avete fatto una piuttura Proprio È andato fuori Bene Ok Data Non so effettivamente Quanti ne sono rimasti Però insomma Ok C'è rimasto qualcuno Però secondo me Non sono tanti Mi ha fatto una bella pulizia Vediamo un po' Questo sta leggendo Sulla panchina Insomma Ok Bene Provo ad andare Verso l'obiettivo Perché ancora Non ne sono sicuro Che È proprio Proprio Piazza libera Vediamo un po' Qui sono venuto Sono venuto Bella stato Qua Stavo andando Semberebbe Semberebbe Che Che Abbia fatto Una bella pulizia Vediamo un po' Il qua Forse sì Forse c'è La possibilità Di andare di sopra Vediamo Cosa c'è di buono O salve Ok Non era proprio Stealth questa Però Ce la facciamo abbastare Dov'è il corpo? Così sì Carica Ok E verebbe che Non ci sia molta gente Salve Molto piacere di conoscerla Ok Andiamo giù Perfetto Andata Nello zigomo Proprio Ok Semberebbe che Quasi quasi Abbiamo fatto Andata Polizia decente Precchiamo Un pochettino Prendere tutto Perquisiamo Perquisiamo E perquisiamo Ok Semberebbe Che siamo Quasi a posto Benissimo Qui dovrebbe essere Cicciacapoint Poi ci salutiamo E siamo tutti a posto Abbiamo fatto abbastanza bene Non siamo morti ancora Dai Disse quello che stava per morire Ok Su Oh che fatica Che fatica Dai 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 Sali Grazie Mi sta cagando in mano Questo qui Eccolo qui Semberebbe Tutto a posto Vediamo di questa Perché non si sa mai Dovrebbe aver caricato Non lo so Comunque il punto è qua Ok Perfetto ragazzi Ci possiamo firmare qui Per questo video è tutto Vi invito come al solito Lasciate anche un commento Se vi piace la serie E fammi sapere cosa ne pensate Per adesso Vedo assoluto la sciva Ciao ciao